Un protocollo di intesa finalizzato al controllo e al monitoraggio dei progetti realizzati con le risorse finanziarie stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stato sottoscritto dall'amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari. La collaborazione ha validità fino al completamento del PNRR quindi non oltre il 31 dicembre 2026 e prevede che gli enti locali comunichino al comando provinciale della Guardia di Finanza informazioni e notizie qualificate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria di cui si è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo. Una strategia volta alla prevenzione e al contrasto attraverso modalità condivise di coordinamento e cooperazione idonee ad intercettare eventuali casi di frode o di altri illeciti.